All'incontro romano sull'emergenza sisma in Italia centrale, la proposta della Regione Veneto al neocommissario Errani. Siccome in questo momento ci sono tutta una serie di esigenze che sono variegate da un posto all'altro, io ho detto, forse per rendere più semplice, più agevole, più efficace la risposta da parte delle Regioni che sono disponibili a collaborare, dividiamo il territorio colpito in aree, assegniamo ogni area a una Regione e poi la Regione interviene. Adottare un pezzo di territorio terremotato dunque, prendendosi interamente in carico tutta una serie di attività, dai bisogni primari di cibo e posti letto al supporto psicologico, dalle farmacie mobili ai sopralluoghi dei tecnici per verificare l'agibilità degli edifici e il tipo di interventi richiesti. È chiaro che poi dipende anche da quali sono le esigenze particolari di quel territorio, ovviamente tutto questo sotto il coordinamento del commissario da un lato e del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, e quindi questo vale per tutti gli aspetti dove dovessimo incontrare delle difficoltà o dove potremmo anche dare supporto ad altri soggetti qualora non siano in grado di far fronte alle problematiche che ci sono nei territori allora assegnati.